Allora, le riforme di Renzi, di Pietro, una al mese in estate, se tutto viene centrato, è un paese completamente rinnovato. Spidi Gonzales, stiamo con i piedi per terra. In Italia, come in tutte le democrazie, per fare le riforme ci vogliono delle leggi, per fare le leggi ci vogliono delle maggioranze. Forse la prima cosa che dobbiamo chiederci, ma ce l'ha una maggioranza in Parlamento, è quale maggioranza ha? Perché fino a prova contraria, gli elettori non hanno eletto una maggioranza in Parlamento. Finora c'è stata una maggioranza contro natura, centrodestra e centrosinistra, messi insieme per governare la poltrona. È tanto vero che quando non riuscivano ad avere una maggioranza a sufficienza, c'era qualcuno che se l'andava a comprare a fondo i milioni. Stanno pure facendo un processo a Napoli. Allora, Matteo, io te lo auguro che tu fai una riforma al mese, ma solo quando parli di riforme costituzionali che fai il mese prossimo, ti ricordo che per fare una riforma costituzionale ci vuole un doppio passaggio tra Camera e Senato e ci vuole un voto di due terzi. Quindi ho l'impressione che per te due più due fa cinque. Astricella troppo alta. Torno a ripetere, all'inizio è bello parlare. I fatti io me lo auguro e da parte mia, visto che ormai la frittata è fatta, cosa intendo con questo? Io ritengo che in un paese democratico, quando una maggioranza non c'è che governa, si va dagli elettori e si dice scusami, da chi vuoi essere governato? Non che ti metti d'accordo a tavolino, dietro le quinte, in segreteria e metti insieme cani e gatti. Perché poi si litigano? Come è successo finora? O si vendono per 30 denari? Come è successo finora?